Buona Pasqua a tutte e a tutti i soci dell'Università di Drianza Cavalieri. Abbiamo incontrato virtualmente il Governatore che ha raggiunto quanto svolto dal mese di luglio ad oggi. Ora l'impegno più grande è questa emergenza, per cui ringrazio quanti mi hanno già chiamato per mettersi a disposizione per l'appello che ho inviato a ciascuno di voi. Ora tocca a noi, per cui il nostro motto è We Serve, per cui dobbiamo cercare di servire, di servire l'Italia in questo particolare momento e di dare contributo soprattutto al nostro territorio e voce alla nostra solidarietà. Grazie a tutte e auguri.